Hanno anticipato le nozze di un giorno per dribblare così curiosi e media dopo la fuga di notizie della scorsa settimana Ronald Reagan Junior, il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti e la retina Federica Basagni. Le nozze si sarebbero infatti dovute celebrare questa mattina ma i due sposi hanno detto sì in comune alle nove di ieri con una cerimonia intima alla quale hanno partecipato una decina di invitati. La cerimonia civile si è svolta a Palazzo Cavallo davanti al consigliere comunale Roberto Bardelli. Altrettanto defilati i festeggiamenti la coppia ha infatti scelto di organizzare il pranzo di matrimonio al ristorante Aliciati in via della Bicchieraia. Ronald Reagan, 60 anni, compiuti lo scorso 20 maggio, presentatore, analista e commentatore politico e Federica Basagni si sono conosciuti alcuni anni fa a e proprio lì è sbocciato l'amore. Gli sposi hanno una casa nei pressi della Pieve nella parte alta della città di Arezzo dove trascorreranno alcuni mesi all'anno.